in questi sei mesi ho visto con piacere ragazzi che si sono qualificati e diplomati a giugno 17 ragazzi si sono diplomati come operatori edili e 11 hanno preso proprio il diploma quindi questo è l'inizio di un percorso molto molto importante quest'altro anno hanno raddoppiati i corsi di qualifica avremo tre sezioni di ragazzi che fanno i due anni per ottenere appunto la qualifica di operatori edili mentre andrà avanti il corso come diploma siamo molto soddisfatti perché le classi sono praticamente già riempite e quindi significa che finalmente c'è una sensibilità da parte dei ragazzi giovani stiamo cercando di coprire questa carenza di personale che ormai risale già diversi anni partendo proprio dall'inizio cioè ridando dignità ad un mestiere che era stato un pochino ghettizzato non veniva considerato più di tanto da parte dei ragazzi rinnovo l'appello ai ragazzi di tenere monitorato il nostro settore perché per loro può essere effettivamente la possibilità di avere sicuramente un percorso lavorativo molto molto interessante buone vacanze ai ragazzi che si sono impegnati e che hanno raggiunto il loro diploma o la loro qualifica professionale un buone vacanze di riflessione verso coloro che in questo momento devono decidere come muoversi a settembre che tipo di percorso sostanzialmente fare suggerendogli di analizzare verificare e consultare il sito di iple perché offre loro tantissime opportunità buone vacanze a tutti